buongiorno a tutti voi e bentornati in questo nostro nuovo video vi presentiamo un oculare per microscopia è un oculare da 10x ed è un oculare particolare al suo interno ha una micrometrica permette di effettuare delle misure la risoluzione di questa micrometrica è 0,05 millimetri deve essere montato su un microscopio biologico oppure sempre su uno strumento ottico che abbia un passo da 23,2 un diametro del tubo da 23,2 che è uno standard e poi in base all'obiettivo occorrerà calcolare la costante micrometrica quindi riassumendo vediamo un oculare 10x con reticolo da 0,05 mm per effettuare misurazioni grazie per l'attenzione e se volete potete iscrivervi al nostro canale su youtube grazie ancora grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti